E' stallo nei negoziati in Medio Oriente per il rilascio degli ostaggi, due giorni di colloqui tra Hamas e i mediatori internazionali al Cairo, ma senza Israele che ha rifiutato di inviare una sua delegazione intanto a Gaza, popolazione allo stremo. Via libera del Parlamento alle missioni internazionali, autorizzata anche a Aspides l'operazione militare di protezione delle navi mercantili in Mar Rosso. I Cinque Stelle hanno deciso di appoggiare la risoluzione del Governo dopo le rassicurazioni in aula sul carattere difensivo della missione. Nel corso del 2023 sono state complessivamente quasi 30.000 le denunce di persone scomparse, numeri in aumento di circa un sesto rispetto all'anno precedente. Il dato più preoccupante è che quasi il 75% delle denunce ha riguardato la scomparsa di minori. Dal nord al sud il meteo non dà tregua, prima il freddo poi i temporali, le valanghe in alta quota. I climatologi dicono che bisognerebbe immagazzinare le risorse idriche fornite da queste precipitazioni. 20-31 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. Non si sblocca la trattativa per la liberazione degli ostaggi ancora in mano ai terroristi islamici di Hamas mentre si continua a combattere e le condizioni della popolazione nella striscia peggiorano tra la morsa della fame e la scarsità degli aiuti. I colloqui al Cairo su Gaza non sono falliti, stanno continuando. Né Hamas né altre parti si sono ritirate. Lo hanno specificato fonti della sicurezza egiziane. Ma resta il fatto che oggi, al terzo giorno di negoziati, non c'era Israele. La speranza è che si arrivi ad un accordo sul cessate il fuoco tra Hamas e Israele e sul rilascio degli ostaggi israeliani entro domenica 10 marzo e cioè prima che inizi il sacro mese musulmano del Ramadan. Sarà molto pericoloso se non ci sarà la tregua a Gaza entro l'inizio del Ramadan, ha dichiarato oggi il presidente americano Joe Biden, aggiungendo che il raggiungimento dell'intesa sulla tregua adesso è nelle mani di Hamas. Washington spinge affinché il gruppo palestinese accetti un cessate il fuoco immediato di sei settimane in cambio del rilascio degli ostaggi. Ma Hamas ha ribadito che non ci saranno discussioni con il nemico su un'operazione di scambio di prigionieri, fino a quando non ci sarà una tregua definitiva, un ritiro dell'esercito israeliano, la ricostruzione e il ritorno degli sfollati alle loro case. Israele comunque va avanti con l'offensiva. 17 i morti palestinesi nell'attacco di questa notte a Caniunis, nel sud di Gaza. 30.631 morti nella striscia dal 7 ottobre. Ma a Gaza, come ha denunciato l'ONU, i bambini iniziano a morire anche di fame. Dal cielo oggi sono arrivati nuovi consistenti aiuti con otto aerei. Velivoli americani, giordani, egiziani e francesi, infatti, con i paracaduti hanno lanciato più di 36.000 pasti alla popolazione estremata della striscia di Gaza. Via libera dalla Camera alle missioni militari italiane all'estero, a cominciare da Aspides, l'iniziativa congiunta europea per la sicurezza in Mar Rosso. Ce ne parla Augusto Cantelmi. Un'ampia intesa in un Parlamento quasi vuoto, preoccupato forse più per le elezioni in Abruzzo che per gli attacchi alle navi sul Mar Rosso, ha dato il via libera alla missione internazionale Aspides, a guida italiana contro le incursioni dei pirati filo-iraniani Uti. Si tratta di una missione difensiva, sottolinea il ministro degli esteri italiani. Voglio ribadire che la missione Aspides avrà compiti soltanto di natura difensiva. Anche le opposizioni, soprattutto i 5 Stelle, hanno detto sia la missione proprio per il suo carattere difensivo. Il governo ha accolto l'istanza del Movimento 5 Stelle di specificare che la missione sia e rimanga difensiva e di mantenere l'informazione nei confronti del Parlamento e delle Camere continua. Altro tema di confronto e di scontro riguarda il caso dei dossi abusivi su alcuni esponenti politici, maggioranza di centrodestra ma anche di dirigenti. Domani attesi davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Perugia, Cantone, che guida l'inchiesta e il procuratore nazionale antimafia Melillo. Tema che alimenta anche la campagna elettorale per il voto di domenica in Abruzzo. È un fatto gravissimo per la Premier Meloni, presente sul palco a Pescara con Salvini Tajani. Ieri invece è stata la volta di Conte. Domani attesa in Abruzzo la segretaria Demme Schlein. E anche lei sulla vicenda del dossieraggio ha parlato di fatti gravissimi. Quando il Presidente della Repubblica promulga una legge non significa che la condivida. Lo ha detto Mattarella ricevendo stamani una delegazione della Casa Agit. Federico Plotti. La libertà di stampa è fondamentale per la nostra democrazia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ribadito anche oggi al Quirinale durante l'incontro con una delegazione della Casa Agit, la Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria dei Giornalisti che quest'anno festeggia i suoi 50 anni di attività. La indipendenza dell'informazione, la libertà di critica nel rispetto della personalità altrui e rispetto dei fatti, ma è un elemento indispensabile della nostra democrazia. E questo carattere di indispensabilità lo ho cercato tante volte di richiamarlo e sottolinearlo. E parlando ai giornalisti della Casa Agit, Mattarella ha voluto ricordare il ruolo del Capo dello Stato che, ha detto, fortunatamente non è più un sovrano e che quando promulgue una legge non la fa propria, non deve condividerla per forza, ma fa solo il suo dovere. Frequentemente il Presidente della Repubblica viene invocato con difformi, con diverse motivazioni. C'è chi gli si rivolge chiedendo con vehemenza il Presidente della Repubblica non firmi questa legge perché non può condividerla, perché è gravemente sbagliata. Oppure il Presidente della Repubblica ha firmato quella legge e quindi l'ha condivisa, l'ha approvata, l'ha fatta propria. Il Presidente della Repubblica non firma le leggi, ne firma la promulgazione, che è una cosa ben diversa. Il conflitto in Ucraina ha fondato il pattugliatore russo Sergei Kotov, colpito da droni marini di Kiev nelle acque della Crimea. Il servizio di Vito De Torre. Ancora una perdita pesante per la marina militare russa. I droni marittimi ucraini hanno colpito un pattugliatore di Mosca, una nave dal valore di circa 70 milioni di dollari, una pedina importante della flotta russa del Mar Nero. Il portavoce della marina militare ucraina ha detto che la nave russa è affondata e a bordo del pattugliatore c'era anche un elicottero da guerra. La maggior parte dell'equipaggio è riuscita a mettersi in salvo, circa 50 persone. Secondo le informazioni diffuse da Kiev, sette militari russi hanno perso la vita e sei sono rimasti feriti. Mosca ha confermato l'attacco ucraino, ma non ha fornito alcuna informazione sul numero delle vittime. Intanto la Corte Penale Internazionale dell'AIA ha spiccato due mandati di arresto nei confronti di due ufficiali russi, Sergei Ivanovich Kobilash e Viktor Sokolov, accusati di crimini di guerra e contro l'umanità, commessi almeno da ottobre del 2022 fino a marzo del 2023. La Corte Penale Internazionale sostiene che i due ufficiali russi abbiano dato ordine di bombardare le infrastrutture elettriche, lasciando al gelo e senza luce milioni di cittadini. La Corte Penale Internazionale ha affermato che gli attacchi alla rete elettrica ucraina hanno causato danni ai civili, basti pensare agli ospedali e che non si trattava di obiettivi militari. Quasi 30.000 le denunce di persone scomparse nel 2023 e la maggior parte sono minori. Alessandra Camarca. Chi l'ha visti? Un esercito di scomparsi nel nostro paese. Sono tante le persone che lasciano tutto per cercare una nuova vita. Il 70% di chi scompare lo fa volontariamente e difficilmente torna indietro. Le restanti fughe sono frutto di patologie gravi, omicidi occulti o altri crimini. Nel corso del 2023 sono state complessivamente 29.315. Le denunce di scomparsi in Italia, quasi il 75% di esse riguarda minorenni, pari a 22.000 minori. Da un punto di vista preventivo, cerchiamo di mettere in campo attività che possano prevenire il fenomeno, soprattutto incidendo su quella parte del fenomeno che riguarda i minori, che evidenza un disagio, una difficoltà negli adolescenti, e quindi intervenire su questo, individuando degli indicatori e facendo lavori di collaborazione anche nel mondo della scuola. E poi cerchiamo di fare interventi per migliorare il sistema di ricerca. Numeri in aumento rispetto all'anno precedente, quando le segnalazioni alle forze di polizia erano state in tutto 24.369, quasi 5.000 di meno dell'anno scorso. In aumento anche gli scomparsi tra i minorenni, sia italiani che stranieri. Sulle 22.000 denunce di scomparsa di minori in Italia, nel 2023 poco più di 4.400 sono state relative italiani e 17.535 stranieri. Ovviamente possono essere scatenate queste fughe, quindi noi le chiamiamo fughe, ma in realtà sono delle scomparse anche molto pericolose per quanto riguarda i giovani, perché pensano, credono di potersela cavare, ma in realtà sono a rischio di altri tipi di problemi nei quali possono incorrere. Sono arrivati oggi pomeriggio a Roma attraverso un corridoio umanitario gli sfollati dai campi di detenzione della Libia. Sentiamo Beatrice Bossi. Partiti da Tripoli nel tardo pomeriggio sono atterrati a fiumicino a bordo di un volo della Buracchia. Viva l'Italia! Hanno gridato appena arrivati, il suono del tamburo accompagnava il ritmo dei sorrisi. 97 rifugiati, evacuati dai campi di detenzione della Libia, hanno riaperto oggi la porta del loro futuro. Hanno lasciato in Africa violenza e disperazione per essere accolti da parrocchie e famiglie di tutta Italia. Dopo i naufragi terribili degli scorsi anni abbiamo deciso che non potevamo più assistere a queste morti, dovevamo agire in qualche modo. Abbiamo trovato la via legale per applicare la protezione umanitaria. La via legale dell'immigrazione si chiama corridoio umanitario. Da otto anni è possibile grazie ad accordi di alcune associazioni con il governo. Dal 2016 sono 7.000 le persone accolte. Nei prossimi tre anni saranno altre 1.500. L'Italia ha offerto queste 1.500 posti nel periodo dei tre anni, ma è l'unico paese europeo che fa questo. Quindi bisogna che l'Europa anche si unisca all'Italia in questa visione. Oggi in tempo di guerra a pezzi è la giornata internazionale per il disarmo e la non proliferazione delle armi. Il servizio di Fabio Bolzetta. In tempo di guerra potrebbe apparire come un miraggio e invece può costituire l'occasione per rallentare la corsa alle armi. Si è celebrata oggi la seconda giornata internazionale per il disarmo e la consapevolezza della non proliferazione. Una istituzione recente, promossa dal 2023 dall'Assemblea delle Nazioni Unite, per sensibilizzare su come gli sforzi per il disarmo contribuiscano a rafforzare la pace e la sicurezza, a prevenire e porre fine ai conflitti armati e a ridurre la sofferenza umana causata dalle armi. Per il segretario generale dell'ONU, Guterres, viviamo un momento di grande pericolo in cui le spese militari sono in aumento. I leader mondiali devono investire nella pace. Tra il 2010 e il 2020, prima dunque della guerra in corso in Ucraina e di quella tra Israele e Hamas, l'industria delle armi ha fatturato circa 5 mila miliardi di dollari. La giornata è stata citata anche da Papa Francesco, ieri a margine dell'Angelus in Piazza San Pietro. Il Papa scrive agli organismi di aiuto alla Chiesa sudamericana che partecipano all'incontro promosso a Bogotà in Colombia dalla Pontificia Commissione dell'America Latina. Ce ne parla Cristiana Caricato. L'amore non ha agenda, non colonizza, ma si incarna. Francesco scrive agli organismi di aiuto alla Chiesa sudamericana riuniti a Bogotà per partecipare ad un incontro promosso dalla Pontificia Commissione dell'America Latina da ieri fino all'8 marzo sul tema della gratuità e offre una riflessione su cosa voglia dire oggi occuparsi degli ultimi, gli emarginati, i poveri, senza preoccuparsi dell'esito o dei risultati. L'indicazione è dare ciò che si riceve in dono da Dio, altrimenti, continua Francesco, si diventa schiavi del denaro, soggiogati dalla paura di non avere, dando il cuore al tesoro della falsa sicurezza economica, dell'efficienza amministrativa, del controllo, finendo per accettare una vita senza sussulti. Ancora una volta il Papa invita a non evitare chi è sul ciglio della strada, chi è coperto di lebra o miseria, imitando Gesù la sua gratuità. Darsi totalmente per toccare le ferite dei fratelli e delle comunità, così come il Signore ha fatto sulla croce, non segno di fallimento ma di amore. Infine, una citazione di Pascal, l'amore alle sue ragioni che la ragione non conosce. Il Tribunale di Enna ha condannato a 4 anni e 6 mesi Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danno di minori. La sentenza è stata emessa dopo 8 ore di Camera di Consiglio. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia di Antonio Messina, un giovane oggi trentenne, che ha raccontato alla squadra mobile di Enna le violenze subite dal 2009 al 2013. Cambiamo argomento. Dal nord al sud il meteo non dà tregua. Prima il freddo, poi i temporali, e le valanghe in alta quota. Precipitazioni che aprono alla necessità di conservare queste risorse idriche. Sentiamo Caterina Dall'Oglio. Conservare la pioggia per i periodi di siccità sempre più temuti. La richiesta si fa ancora più forte in questi giorni in cui il territorio ha fatto i conti con il maltempo. A livello nazionale la stima è che si recuperi solo l'11% dei 300 miliardi di litri di acqua che cadono almente. I fenomeni nevosi e piovosi di questi ultimi giorni non fanno altro che confermare questa tendenza all'estremizzazione dei fenomeni meteorici, derivante a sua volta da questa enorme quantità di calore a disposizione dai mari che circondano l'Italia. Di conseguenza è necessario, sempre più necessario, vista questa irregolarità meteorica, a stoccare l'acqua, stessa diffusione del manto nevoso che delle precipitazioni, in invasi di magnitudo più o meno significativa. Necessari risultano anche il potenziamento e il miglioramento delle reti idriche già esistenti per evitare le dispersioni dell'acqua dolce. L'appello, numeri alla mano, è per vedere realizzata una rete di infrastrutture di trattenute accumulo. La stima è che in questi giorni siano caduti circa 500 milioni di metri cubi di acqua nelle zone non interessate dalla neve. Evidentemente, quando abbiamo a che fare con precipitazioni sia piovose che nevose molto abbondanti, è statisticamente, scientificamente provato che la quantità di acqua fusa o che ruscella, che si infiltra, è molto, molto limitata. Dunque, la ricarica delle falde acquifere, sia superficiali che profonde, è un pochino inibita. A rischio è la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo con la conseguente competitività dell'intero settore alimentare. Riappare Kate Middleton, principessa del Galles, dopo un intervento chirurgico circondato di mistero. Preoccupazione in Gran Bretagna per la salute dei reali, a cominciare dal re. I Rachile Dolfini. Prima foto dopo mesi di assenza dalle scene pubbliche per Kate Middleton, un settimanale di Casa Nostra, rilanciando un'immagine diffusa da siti statunitensi, ha pubblicato uno scatto della principessa di Galles, moglie dell'erede al trono britannico William. Dopo la notizia di un intervento all'addome, subito a Londra a gennaio, ecco la foto che ritrae la Middleton, occhiali scuri, su un'auto tedesca guidata dalla madre nei pressi del castello di Windsor. Qui, la donna ha starta rascorrendo la convalescenza dopo l'operazione di cui non si conoscono i particolari, ma che ha fatto parlare molto in queste settimane. Uno scatto che sgombra il campo da notizie di un aggravarsi della salute della principessa, assente in pubblico da Natale. Al contrario del re Carlo III, apparso già più volte dopo l'annuncio da parte della Casa Reale del cancro diagnosticato di recente al sovrano. Lo stress per i troppi impegni ufficiali, che ha dovuto sostenere nel primo periodo della malattia del marito, ha imposto invece una breve vacanza alla regina consorte Camilla, mentre si allungano i tempi per un ritorno sulla scena di Kate, il cui primo impegno ufficiale è in agenda per l'8 giugno. È tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Arrivederci.